Armando Izzo è ufficialmente un giocatore del Torino Football Club ed è anche ufficialmente il primo rinforzo di questa campagna estiva del Torino. Oggi, primo approccio con quella che sarà la tua città per cinque anni, Torino, anche con lo staff medico. Che te ne sembra? Sono molto felice, motivato soprattutto. Ho conosciuto lo staff medico, mi sono sembrate belle persone. Bello, per ora tutto bello. Tra l'altro è arrivata anche poco fa la telefonata del Presidente, Urbano Cairo. Cosa vi siete detti? Niente, mi ha fatto in bocca al lupo. Sono contento di averlo sentito. Voglio ringraziarlo perché ha fatto un sacrificio a portarmi qui. Lui è il direttore Petraghi. Spero di ricambiare la fiducia. Spero di fare bene. Spero di ricambiare la fiducia.